alla vostra. Allora cari nipotini un grosso abbraccio questo mese parliamo di come creare la tua vita vacanza e essere più produttivo. Due concetti apparentemente contraposti produttività e vita vacanza un paradosso una dicotomia e c'è potere lo dico sempre potere vero nel gestire nel pensare ai paradossi vita vacanza è un concetto new age che vuol dire praticamente dopo tante vite di sofferenza di karma duro e adesso esco dalla maia più nera e sono una vita vacanza una vita vacanza ecco ascoltavo sugli amici amici conoscenti avremmo dovuto frequentarci un po di più però di bazar atomico il simpatico frank gramuglia diceva che come voleva la sua vita ideale sul divano meno possibile mangiare scopare tutto il resto senza problemi economici o di altro genere ecco io posso dire congruentemente che da 30 anni e oltre da molti decenni diciamo in generale vivo la vita che sogna lui e che sognano molti influenze e ho fatto un periodo a fare proprio iniziale a fare proprio quello che lui sogna ma sono abbastanza vecchio oramai bisogna usare i propri termini per aver imparato ha preso alcune cosettine ecco prima di tutto abbandono il mio progetto di fare l'influencer di base perché preferisco che le persone mi trovino spontaneamente non mi piacciono le persone che arrivano spingendo troppo per cui se mi hai cercato tu sicuramente mi piace stai sereno però siamo passati col canale da 400 a quasi 15 mila e sono molto contento ma francamente l'idea di poi di fare quello era l'idea di avere contatti no qualcuno mi ha trasmesso quest'idea no del potere che è conoscenza di persone importanti guardate le persone importanti hanno scritto dei libri le puoi conoscere leggendo i loro libri quest'anno ad agosto sono al 92esimo libro e in più in più molti di queste influenze senza insultare nessuno hanno hanno dei problemi seri e che avevo anch'io ho cercato di lavorarci in questi mesi che è sempre legato all'etero riferimento quello che agli inizi 25 anni fa chiamavamo etero riferimento che in realtà è una teoria nel senso scientifico del termine che vuol dire consolidata ricerche del 54 ricerche sono arrivate dopo di julian b rotter che è la teoria del locus di controllo in psicologia e chi ha locus esterno in sostanza fama potere gli altri no gli altri è quello invece che dà potere è il locus di controllo interno che ci dà gioia soddisfazione felicità ed è legato al dire ho abbastanza ho abbastanza salute perché qui si può vivare nel biohacking estremo che sono sano ho vent'anni ma devo farmi di 30 anni ha raccomandato un noto mega fuffarolo internazionale da prima di me no dovrebbero tutti iniziare ottimizzazione meno ormonale a 30 anni perché scende il testosterone quando sentite parlare un pagliaccio vi aiuto io dovete visualizzarlo proprio da pagliaccio non la parrucca ma c'è i miei capelli ecco il testosterone per una vita ideale vivi al massimo allora queste sono cazzate la scienza ci dice che sono cazzate le ricerche sul flusso e se guardate c'è una playlist nel canale youtube dedicata al flusso flow cercate fl o w no dedicata al flusso trovate tutte le ricerche recenti sul flusso per cui il flusso ha bisogno della fase di riposo anzi io consiglio di partire dalla fase di sonno di riposo di eliminazione dello stress però torniamo alla nostra vita ideale bisogna bilanciare l'edonismo la ricerca del piacere che tutti noi cerchiamo con disciplina produttività quindi anche per la salute il biohacking serve uno stress corretto uno stress che produce una risposta ormetica si dice tecnicamente e il riposo e anche per avere una vita felice ricca e completa bisogna bilanciare quello che ci piace relax e non va tolto va bilanciato con le discipline per cui per vivere una vita vacanza di cosi va bene avere abbastanza soldi abbastanza relazioni abbastanza sesso abbastanza fama anche perché no cioè alla fine un nel contesto giusto essere noti è ok avere abbastanza salute no magari muovere usare il biohacking per quello che ho usato in misura preventiva poi sicuramente farò interventi anche in altri canali ci saranno dei clip che parleranno di questi argomenti stati sintonizzati sul canale però ho imparato appunto che non basta stare sul divano mangiare trombare ma bisogna fare delle discipline minime essenziali che servono a ogni essere umano e la prima caro frank è lavorare fare quello che ci piace continuare a farlo lo fa chiaramente apprendere adesso vediamo che quello e divulgare che rientra nella seconda cosa che è studiare in particolare io leggo come detto sono ad agosto il 92esimo libro se andate sul canale telegram di recensiscono per uno medito pratico mindfulness rilassamenti meditazione per tenere lo stress sotto controllo non che ne abbia tanto avendo creato una vita vacanza che ha a che fare molto non solo con lo stile di vita è stato chiunque dica che è stato il primo a parlare in italia di stile di vita si dimentica di qualcuno che 25 anni fa lo faceva chi sarà boh non lo so ecco mi alleno ho fatto sei anni sull'app beyond the whiteboard e ho tutti gli allenamenti salvati quei pesi tutto il resto adesso sono su free netix cercate non è pubblicità non mi pagano io non accetto sponsorizzazioni da nessuno anche perché non neanche i numeri quindi non mi cercano passeggio nella natura ecco queste cose non le faccio tutti i giorni c'è un perché mi hanno già parlato tante volte e chiaramente se guardate i miei video precedenti a questo sto sistemando anche la mia alimentazione non che se fosse disordinata come qualità ma era disordinata come quantità e poi faccio una cosa anche se ne faccio poco però ho fatto il primo corso italiano i bio e chi del sonno dormo ecco quindi questo è il primo video nel prossimo parleremo dei cinque errori che fanno tutti quando cercano di essere più produttivi attenzione al quinto di questi che è il più grave ed è legato alla vita vacanza poi nel terzo parleremo dei passi per triplicare la produttività e poi gli altri ve li dico dopo i miei canali principali dove seguirmi indubbiamente youtube dove metti video ogni tanto i podcast se volete la versione audio e telegram su telegram ho un canale zio h circa quattro lettere tutte attaccate e ho un canale che con contenuti di gratuiti podcast gratuiti mi sfogo un po di più anche c'è anche tutto quel discorso dettagliato sugli problemi degli influencer dovrei fare un corso ma forse meglio un coaching 1 per aiutarli perché molti di questi si comportano in modi bizzarri perché non sanno monetizzare e lo fanno in modo sbagliato strano hanno grandi numeri di follower ma non fanno non sanno fare una cosa che è essenziale che la monetizzazione quindi iscriviti e tiri le notifiche vai su telegram i podcast quando cammini mettiti su ascoltami un po e via e ci sentiamo nel prossimo video ciao 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 ciao